Ciao a tutti amici di Football Senate, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con un video un po' diverso, ovvero un po' spartita per la finale di Supercoppa. E la finale l'ha vinta la Juventus, Andrea Pirlo vince il suo primo trofeo d'allenatore e lo fa ovviamente con un gol di Cristiano Ronaldo che è stato abbastanza assente durante la partita però nel momento che conta ovviamente la mette sempre dentro lui e tra l'altro Cristiano Ronaldo con 760 gol è diventato il più grande marcatore della storia del calcio. Quindi che dire, che dire di CR7, un gol di rapina però un gol in un momento importantissimo per la Juve. Allora parliamo un po' delle due squadre, diciamo che Napoli non ha giocato una partita brutta però ci si sarebbe aspettato una partita più spettacolare dagli azzurri, in particolare andando a vedere quello che poi è stato il risultato per ben 6-0 contro la Fiorentina. Il Napoli è stato attendista, è ripartito ogni tanto in contropiede però ha avuto poche occasioni in cui affidarsi veramente ai suoi uomini di talento, ovvero Lozano e Insigne. Insigne oltretutto sbaglia un calcio di rigore con il fallo di McKennie su Mertens e quindi Napoli spreca anche l'occasione per andarla a pareggiare. Insomma, gli uomini di Gattuso avrebbero potuto fare un po' meglio però la partita non è stata preparata al top diciamo che le colpe sono anche in parte di Gattuso. C'è però anche da dire che nel primo tempo Cesni ha fatto una parata formidabile su Lozano la partita era ancora sullo 0-0 quindi chissà come sarebbe potuta andare a finire in quel caso la partita. Passando invece a parlare di Juve, una Juve che ritrova un titolare importantissimo come Juan Quadrado che ha fatto una gran partita questa sera è una Juve che in qualche modo sembra aver voltato pagina dopo la sconfitta di San Siro perché giocando questa volta senza Morata giocando con Danilo a sinistra e fra botte in panchina e soprattutto nonostante l'inconveniente di Chiesa un ottimo ingresso in campo di Benareschi tutto sommato la Juve è riuscita a fare una buona partita con Kulusevski che ha avuto un cliente difficile come Koulibaly ma che comunque ha creato pericoli con Meccanica e con i suoi inserimenti ha sempre creato pericoli è una partita difensiva che al di là di un paio di sbavature e poi quello che è stato il calcio di rigore diciamo è stata 100 volte meglio di quella che era stata la partita San Siro contro l'Inter quindi Pirlo vince il suo primo trofeo di fatto alla prima finale disponibile e questo potrebbe essere un nuovo inizio per la Juve che da questo momento in poi deve riuscire a voltare pagina deve riuscire a dare un passo oltre le ultime prestazioni in campionato non fantastiche e cercare di ritrovare una forma, una solidità che di certo deve essere accompagnata anche dal recupero pian piano di uomini importantissimi come Alexandro come De Ligt, come Dybala e insomma la Juve ha ancora molto da lavorare però le idee di Pirlo iniziano in qualche partita non sempre, a farsi vedere e questo sicuramente potrebbe essere un grande plus per i prossimi impegni poi appunto questa è stata la partita di Cristiano Ronaldo perché molti si sarebbero aspettati me compreso che l'avevo messo titolare capitano su Kikest il gol nella sfida contro l'Inter il gol numero 760 invece è arrivato stasera in una finale una di quelle partite che Ronaldo non sbaglia mai Cristiano Ronaldo adesso se vi siete persi il dibattito su chi sia il migliore tra Messi e Ronaldo sul nostro canale andatelo a vedere perché lì abbiamo deciso tra di noi di fatto quale sia il migliore tra Messi e Ronaldo ma ovviamente sono due giocatori inarrivabili però questo è un record forse il più importante di tutta la carriera di Cristiano Ronaldo insieme a quello di miglior marcatore in Champions League perché essere il miglior marcatore della storia ti dà anche quella carica in più quella motivazione che Ronaldo sa sfruttare sempre per concludere la stagione chissà con una rimonta in campionato e magari anche con la Champions League parlando invece del Napoli il Napoli non deve farsi rallentare troppo da questa sconfitta perché comunque è una partita contro la Juve la Juve è forte la Juve è ancora a livello di rosa più forte del Napoli per quanto il Napoli stia giocando bene e quindi non deve farsi scoraggiare troppo e deve cercare di ripartire dai suoi punti di riferimento da quelli che sono stati i migliori giocatori e che si sono visti anche in campionato fino ad ora quindi Koulibaly, quindi Insigne, quindi Lozano quindi Zelinski e non farsi troppo influenzare anche da un punto di vista di gioco perché se si è visto stasera un Napoli un po' spento dal punto di vista del gioco non bisogna considerare questa come partita di riferimento ma piuttosto gli impegni precedenti specialmente la vittoria contro la Fiorentina che è stata veramente un tripudio del calcio del Napoli che ormai sono parecchi anni che fa prima con Sarri ancora prima con Benitez anche se un pochino di meno e che dopo la parentesi Ancelotti che aveva provato a cambiare è ritornato con Gattuso quindi questo video termina qui spero vi sia piaciuto lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun video noi ci vediamo la prossima volta ciao a tutti